Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube Oggi un video nel quale andiamo a rispondere a una domanda tanto spammata ultimamente sia in live che sotto i commenti qui di YouTube ossia quali sono i migliori moduli di FIFA 21 mi verrebbe da dire al momento diciamo in base a quelle che sono state le varie modifiche che il gioco ha subito quindi vediamo un attimino di trovare delle soluzioni a questo quesito passiamo subito alla schermata in game qui vedete intanto la mia squadra aggiornata che in realtà non ha subito neanche così tanti aggiornamenti probabilmente dall'ultima volta che l'avete vista e prima di affrontare la questione ci tengo a fare una doverosa introduzione ossia di moduli chiaramente ce ne sono tanti abbiamo il 4231, il 442, il 442 in linea abbiamo il 4141, il 451433, rombo, bla 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 di moduli ce ne sono un'infinità stabilire in maniera a priori quale modulo è meglio di un altro per me non è possibile farlo perché su questo va a incidere tanto quella che è la percezione del giocatore non la percezione intesa come momentum o battuta che fa ridere ma possono essersi giocatori che riescono a trovarsi bene magari con il 41212 e altri che invece questo modulo non riescono a utilizzarlo minimamente quindi la scelta del modulo indipendentemente dal fatto che il modulo magari sia un po' più meta rispetto a un'altra va modulata su quella che è la nostra skill è il nostro tipo di gameplay quindi magari se io sono portato ad un gioco più basato su un ping pong un gioco più verticale sceglierò ad esempio un modulo come un rombo se a me piace tanto per esempio il costruire la manovra attraverso il possesso palla sceglierò un 442, un 4231, un 451 se mi piace tanto giocare di ripartenza sfruttare le fasce, utilizzare giocatori un po' più fisici allora magari andrò ad utilizzare un 433 per sfruttare le ali e sfruttare invece la punta un po' più fisica che magari finalizza anche di testa se invece mi piace giocare totalmente bunkerato di contropiede utilizzeremo magari un 532 se mi piace giocare un po' più in maniera spregiudicata utilizzeremo magari un 352 di contiana memoria quindi la scelta del modulo non deve essere guidata sulla base del tizio usa il modulo Y allora lo devo utilizzare anche io perché non credo che ci sia cosa più sbagliata i moduli così come le tattiche sono personali poi è chiaro, ovviamente è chiaro che determinati moduli sono non meglio di altri ma diciamo che ti mettono in condizioni migliori rispetto ad altri attualmente i moduli che secondo me vanno per la maggiore che poi fondamentalmente sono sempre quelli sono il 4-2-3-1 e il 4-4-2 non più questo qui però con i due mediani ma bensì questo con i due centrocampisti in linea differenza fondamentale tra i due 4-4-2 è che nel primo caso i mediani sono un po' più scollati dalla vostra manovra quindi nel caso in cui voi andate a buildare la manovra offensiva spesso e volentieri vi ritroverete con questo reparto staccato dal resto della squadra cosa che invece per me nel 4-4-2 è fondamentale andare a sfruttare la presenza dei CC per dare una mano alla creazione di azioni offensive dove manca il COC che in moduli come ad esempio il 4-2-3-1 è la figura di riferimento dalla quale passano tutti gli snodi offensivi e mi direte a questo punto è buono anche il 4-2-2-2 certo il 4-2-2 è un buon modulo così come lo sono tutti i moduli vi ripeto con i quali voi magari vi trovate però è un modulo che io non gradisco perché è una sorta di via di mezzo tra un 4-4-2-4-2-3-1 non è né carne né pesce mi verrebbe da dire perché gli esterni non sono gli esterni ma sono una sorta di COC il COC non c'è e si aggiunge a fare la punta quindi io quando utilizzo questo modulo mi trovo sempre molto molto slegato e non riesco mai a fare il gioco che vorrei fare che sono solito fare quindi ritornando ai 2-4-4-2 preferisco al momento questo che lo reputo veramente il modulo non plus ultra attualmente perché non solo vi permette di poter buildare bene l'azione largo sfruttando gli esterni e poi di venire al centro dove ci sono i CC che danno una mano per imbucare le due punte vi permette di sfruttare tanto bene i filtranti spaventando l'avversario anche con la presenza dell'altro attaccante quindi aprendo spazi centrali per poter lanciare le vostre punte e in più un'altra cosa fondamentale del 4-4-2 è che vi permette di poter fare scambi rapidi tra le punte in aria quindi avere la presenza di un altro giocatore in aria spesso e volentieri spaventa il vostro avversario che con i suoi difensori deve allargarsi a coprire e creare quindi dei buchi quindi molto molto valido attualmente per andare a cercare di scardinare quelli che sono questi muri di CPU che si sono venuti a creare ultimamente 4-2-3-1 che per me si colloca in seconda posizione vi spiego perché si colloca in seconda posizione il 4-2-3-1 è un modulo anche qui basato tanto sul girare la palla trovare l'imbucata giusta eccetera 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 ok su questo siamo d'accordo però rispetto al 4-4-2 l'assenza dell'altra punta in aria di rigore per me si sente un botto un sacco di ragazzi che fanno coaching con me che hanno utilizzato il 4-2-3-1 io li ho totalmente bypassati nel senso che io ho detto passate al 4-4-2 perché spesso e volentieri vedevo che costruivano bene l'azione e poi si perdevano negli ultimi metri ok quindi cosa succede che con 4-4-2 si sono trovati molto meglio perché arrivavano magari trovavano una scelta in più di passaggio sull'altra punta e finalizzavano meglio questo viene spesso diciamo chiamato il modulo dei pro perché è il modulo che comunque negli ultimi anni è il più utilizzato io per esempio lo utilizzavo su FIFA 18 poi l'ho abbandonato su FIFA 19 dove utilizzavo il 4-1-2-1-2 e quest'anno ho riconfermato quello che è il 4-4-2 dell'anno scorso quindi 4-2-3-1 che per questo motivo si colloca per me in seconda posizione anche se questo per esempio rispetto al 4-4-2 vi dà un po' più di copertura in difesa perché i mediani sono belli piantati i tre C o C vi fanno da schermo quindi magari si difende meglio col 4-4-2 mi rendo conto che bisogna masterare determinate dinamiche bisogna far bene filtro davanti alla difesa con i due centrocampisti ma reputo questo qui il modulo migliore qualora lo riusciate ad imparare bene e non scoraggiatevi se magari lo pronuniziate a utilizzare e le prime partite le perdete o che ci sta fondamentalmente un po' di tempo prima di capire tutti i movimenti di uno schema io l'anno scorso ci ho messo un paio di mesi prima di farlo diventare il mio main modulo detto ciò questi due sono per me i migliori quelli che più si vedono in competitive attualmente c'è il buon Nicolas che è un proprio argentino che magari qualcuno di voi conoscerà che utilizza anche il 4-1-4-1 ma sono moduli un po' estemporanei e che si vanno a ricollegare a quello che il discorso faceva in precedenza ossia se io mi trovo bene con un modulo con un preciso modulo non è detto che lo possa andare a utilizzare in qualsiasi contesto un sacco di ragazzi ultimamente mi stanno dicendo sto usando il 3-5-2 in WL ci ho fatto 23, 25, 27 eccetera eccetera quindi non abbiate paura di provare moduli che magari pensate possano sposarsi bene al vostro stile di gioco semplicemente perché non li vedete utilizzati perché come per le tattiche vi ripeto sono un qualcosa di molto molto personale ok? quindi raga per questo video è tutto spero di avervi un po' chiarito la questione vi ricordo di lasciare un like e un commento vi ricordo di iscrivervi al canale che stiamo crescendo benissimo e per tutte le info invece delle live giornaliere trovate in descrizione il tutto e a me non resta altro che salutarvi ciao ragazzi